E quindi ora termino di scrivere e scriverò quando viene Turiddo a Ragusa, che porta altre belle notizie di Giovanni. Ricordo che oggi, che stai io scrivendo, è nella domenica il 14 febbraio e speriamo che Turiddo verrà il martedì 17 febbraio e così io scriverò un'altra volta. Non scriverò perché pochi giorni dopo, 1981 febbraio, il 18 febbraio, lo stesso giorno di quel 1916 in cui la Stovia aveva bussato a casa sua. Grazie. 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 Grazie.